Allora il mio bacio? No, aspetta un attimo, fermo, calmo. Niente affatto, devi pagare la scommessa. Non ho mai detto che ti avrei dato un bacio, smettila. Come sarebbe che non mi dai un bacio? Era la posta... Scusami, scusa, scusa. Vedi che non sei di parola. No, non è che non sono di parola e che tu hai barato non può essere. Come hai potuto costruirla così in fretta? Dì la verità, c'era già. È solo che ho studiato varie cose, ho fatto dei corsi di sopravvivenza. Corsi di sopravvivenza? Ma che ho fatto nella mia vita? Ho solo spiegato tempo, non so l'inglese, non so usare un frullatore, non conosco la fisica quantistica. Che ho fatto? No, 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 per questo c'è una soluzione. Però non cambiare argomento e dammi il mio bacio. No. Sapevo che non mi avresti baciato. Lo sapevo. E perché ne eri così sicuro? Lo sapevo, lo sapevo perché non mi credi neanche un po'. Perché mi incolpi anche per la morte di Fritz and Walden. Perché non sopporti il mio stile. Perché non sopporti che mi piacciono tanto le donne e perché mi odi. No, no, aspetta, stai esagerando. Io non ti odio affatto, non ce l'ho per niente con te. La verità è che mi, 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 non lo so, mi innervosisci. Ci sono dei momenti in cui mi dai fastidio. Ah, sì? Ecco, vedi? Lo vedi che allunghi le mani? Lo vedi? Stai al tuo posto. Smettila di protestare, vai a pulire i pesci che io accendo il fuoco, d'accordo? Mi bastano solo due piccole pesce. Accende il fuoco con due pietre, lui, che presuntoso. Me ne vado, Martin. No, aspetta, Paz, non chiamarmi Martin, chiamami Thomas. Hai visto? Adesso vi siete messi in due per prendere in giro una povera ragazza. Tu prima non eri così. È tutto qui. Senti, io lo faccio per aiutare Franco, ma questa faccenda non mi piace, lo giuro. Meno male, meno male, però non è tutto. La verità è che mi annoio sempre di più con te. Sei un topo di biblioteca. No, non dire così, non te lo permetto. E poi non è giusto perché lo sapevi fin dall'inizio. Ma tu esageri, esageri. Guarda che colorito hai. Che c'è? Sono palido? Che cos'ho? Prende, mio caro, perché non prendi un po' di sole e non vai in palestra? Ragazzi, ragazzi, passa ragione. Sono troppo pallido, troppo flaccido. Che mi succede? Questo non lo so, Thomas. Perché non la inviti a fare qualcosa di divertente? Qualcosa di bello, sì. Pensavo di portarla a teatro, ma ho paura che non le piaccia. Perché non la porti al Lago del Sole? È un bel posto. Ci si diverte molto. È fantastico. Mi piace da morire quel posto. Ci sono le moto d'acqua e si fanno gli sport acquatici. Sì, a me tutte quelle cose non piacciono, lo sapete. Preferisco i libri, la psicanalisi, la filosofia. Ma così non troverai mai una ragazza? Vuoi assomigliare a me? Certo. Martina ha ragione. Pensi, Massimo. Io sono in pensiero per Flor. Dove sarà? Rispondo io. Pronto? Chi parla? Flor? Ciao, Thomas, tesoro. Come state? Siamo bene. E tu? Dove sei? Sono qui al porto. Sono venuto a fare una passeggiata. E sai, qui è fantastico. E flichiti. E flichiti. E qui c'è il mare, il sole. Ecco, per ora resto qui. Come va a casa? Le streghe? Non ci sono novità. Le streghe sono nella tana. Bene, bene. Allora, Thomas, tesoro, in un coro. Ci vediamo più tardi, d'accordo? Più tardi? A che ora torni? Sì, grazie infinite per tutte le informazioni, signor prefetto. Grazie ancora. Mi saluti sua figlia a risentirla. Allora? Hanno bloccato la nave e fermato l'equipaggio. Andiamo subito lì. Ma quanto impazienza! Non vedi l'ora di ritrovare quella piccola sguattera, vero? Quanto fretta! Ah, questa è gelosia, sì, è gelosia. Ma che c'è? Sono contento. Mi piace, mi piace, mi piace, perché... Ci sono delle speranze, provi dei sentimenti, quasi mi emoziono. Certo che sono gelosa. Non sopporto come strisci dietro a quella stupida, mi dà... Lorenzo, tu sei l'uomo della mia vita. Tu sei il mio grande amore. E non sopporto di vederti così innamorato di Flor, che è il mio incubo peggiore. No, 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 no. Se mi volevi ferire per qualche cosa, se volevi vendicarti di me, e posso dirti che ci sei riuscito. Mi hai spezzato il cuore. È il mio lavoro. E non mischio gli affari con i sentimenti. Mettitelo bene in testa. Flora è una povera ragazza, debole e confusa. Fra lei e me non c'è niente. È chiaro? Non stai mentendo? No. No, non ti mento. L'unica per la quale ho provato qualcosa una volta sei stata tu. E ora andiamo a prendere la tua sorellina, eh? E ovviamente sono. No, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no! Fa vedere? No, mi piacciono così. Mi piacciono ben arrostiti. Così sono buonissimi. Basta dargli una pulitina intorno. Con la sabbia, certo. Sono più proccanti. Senza, sì, certo. Sieriti, sieriti. Saranno deliziosi. Oh, santo cielo! Che ti prende? Sai cosa dovresti fare? Dovresti rilassarti. Cercare di non essere così ansioso. Che vuoi dire? Che sono una pazza scatenata, isterica e urlatrice? Va bene, staccetta. Non abbiamo acqua. Moriremo di sete, poveri noi. Ma no, non moriremo affatto, Florenzia. Vuoi l'acqua? Vieni, andiamo. Qui deve aver piovuto da poco. E le foglie degli alberi conservano l'acqua come riserva. Quindi abbiamo tutta l'acqua che vogliamo. Quanti sono? Com'è quanti sono? Parlo di te. Quanti miniconti ci sono dentro di te? Qual è quello vero? È questo che hai di fronte, quello vero. Sì, il signor 220 volte di sempre, me ne sono accorta. Ti piacerebbe che fossi? Frinze e Walden? Aspetta, aspetta, forza, forza. Signora Torre Soviedo, la prego, ci tolga dei guai. Quali guai? Un tizio ci ha denunciato come contrabbandieri. Sì, va bene, piuttosto mi dica dov'è. Che cosa? Come che cosa? Il pacchetto, quella cosa, quello che dovevate portare a Calcutta. Ah, è scappata. Purtroppo non abbiamo potuto fare niente. Ma come è possibile che dieci marinai muscolosi, abbronzati e pieni di tatuaggi non siano riusciti a trattenere una fragile, bellissima e affascinante ragazza? Basta, basta così. Purtroppo c'è intromesso quel tizio e... Quale tizio? Quale tizio? Un tipo come? Come sarebbe un tizio? Un tipo come? Un tipo come? Ma certo che era un uomo. Un uomo! Sono stata molto bene. Siete tutti molto simpati. Grazie. Di sicuro vi divertirete al Lago del Sol. Sì, sì. Ti apro la porta. Ci vediamo, ragazzi. Ciao, a presto. Grazie di essere venuta. Buonasera. Grazie davvero. Siete tutti qui? Franco, Nicola, Thomas, Martin. Devo parlare con tutti voi. Perdonami, Flora. Credimi, non volevo essere scortese. Volevo solo dirti che all'amore bisogna concedere qualche opportunità. Come si vede che non sei mai stato innamorata. Io ho amato un uomo. Io ho amato un uomo. E l'ho perduto. E sono triste, sola e non so che cosa fare. Scusami, però io... Anch'io ho amato una persona. L'ho amato davvero. Sul serio? E mi è andata male. Però sai, la vita è continua. Sì. Quello che non capisco è come continui per te. Ti interessa solo allungare la tua lista di ragazze? Aggiungere in continuazione nuove conquiste? Per te le donne sono solo trofei da attaccare al muro, no? Tu no. Tu sei diversa. Sarà per questo che mi piaci tanto. E credo che... Anch'io ti piaccia un po'. Non è vero perché a me... Non piace proprio nessuno, perché... Io non provo... Quello che dici tu. Non essere sciocca, Florence. Concediti un'altra opportunità. Non posso. Non voglio un'altra opportunità. E tanto meno con uno come te. Beh. Vuoi dire che io... Non ho alcuna speranza di cambiare. Non ti credo, le persone non cambiano. Che fai? Massimo! Oh, santo cielo! Massimo, ti prego! Fatine mia, aiutatemi! Conte! Stai bene. E lei? Lei chi è? Oh, e lei è? C'è? A veces me pregunto, come andre, dove stai tu? Mi vida, mi alma, mi confianza. Tu me pariste con moneda falsa. Perdi mi piel, mis noches de lo jugga. Perdi mi tempo, no me quedan dudas. Andai, dile a tu cariño Que no es bienvenido en este corazón Andai, dile a tu cariño Que hoy mismo juré no suprir por amor De tus cariños estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus cariños no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui